Da poco più di un mese l'area ex Cattoi a Riva del Garda ha un nuovo proprietario che ora preme sull'acceleratore. Ieri mattina Heinz Peter Hager si è recato negli uffici della comunità Alto Garda e del comune di Riva per presentare un piano di comparto che è al 100% in linea con quello attuativo ancora in vigore, approvato dallo stesso comune qualche anno fa. Questo dovrebbe rendere la decisione del comune il più semplice e rapida possibile. Il progetto è a firma dell'architetto Alberto Cecchetto, lo stesso Cecchetto che all'epoca aveva elaborato il piano attuativo assieme al comune, e dell'ingegner Nicola Zueck di Heliopolis Engineering. Da molti anni l'ex Cattoi a Riva è oggetto di accese discussioni. Si tratta di un'area in disuso, una grande voragine nel centro della città, ma con un potenziale enorme, ha spiegato Hager, il rappresentante della società bolzanina Vinco Energreen SPA, che con una quota dell'85% è proprietaria di maggioranza dell'area. Il restante 15% è di proprietà della società consolida di Arco. Gli imprenditori altoatesini hanno grandi progetti per Riva. Uno che conosce molto bene l'Alto Garda, in particolar modo l'ex Cattoi, è l'architetto Alberto Cecchetto. Ben 13 anni fa il professore universitario di Venezia aveva iniziato a predisporre il piano attuativo della fascia lago su iniziativa pubblica, seguendo gli indirizzi di varie amministrazioni comunali. Il piano si è concluso alcuni anni fa con il consenso delle amministrazioni e della cittadinanza. Si prevede di creare un grande slargo, una piazza lunga più di 100 metri e in alcuni punti larga 17 a disposizione della collettività. È prevista inoltre un'area parco pubblico in continuità con l'attuale parco dell'Ora e un parcheggio pubblico a servizio degli utenti. Ultimazione dei lavori prevista per il 2019. Se comune e comunità di Valle Alto Garda si atterranno ai tempi previsti, sarà possibile concludere la procedura in pochissimo tempo. In quel caso possiamo ottenere le autorizzazioni edilizie necessarie entro il 2017, conclude Ager, e di conseguenza ultimare i lavori prima della fine del 2019. Vogliamo consegnare ai cittadini un bel quartiere in cui vivere, fare shopping e passeggiare. La nostra intenzione è quella di avviare una buona collaborazione con il comune di Riva e i cittadini di questa città. Dall'area segatore si parte dalla strada e dal lago. Sono una vicina all'altra, però non si guardano, non si leggono e quindi chi percorre le Viale Rovereto non ha la percezione del lago. Quando abbiamo fatto il piano abbiamo tentato di risolvere questo problema. Il secondo problema è che la Viale Rovereto è una strada di un chilometro, che era la vecchia strada di accesso al centro storico, ma che ormai è diventata lo spazio pedonale più importante di tutta Riva, dove ci sono i negozi, gli alberghi, le attività. C'è un grande buco, che è questo che vediamo alle spalle, che è un buco sterrato con un manufatto che deve essere ancora demolito e che ha più la condizione della periferia più quella del centro. Il tentativo è quello di ridargli senso a quest'area. Abbiamo presentato un piano di comparto come previsto dalla norma del piano regolatore e che va ad attuare un piano particolareggiato che le amministrazioni, tre o quattro amministrazioni hanno predisposto nell'arco degli ultimi dodici anni. Quindi questo piano è vigente e noi ci atteniamo a quanto era previsto nel piano perché così, almeno in questa fase, questo è quello che si vuole fare, che è quello appunto che ha gli obiettivi che dicevamo prima. Basta guardare le spalle, credo di riempire questa cosa che non ha idee. Se ci fossero altre idee, io credo che sarebbe interessante dialogare. Se non ci sono altre idee, questo è quello che oggi è previsto, verrà fatto quello che si prevede. Questo è da 13 anni, da 10 anni forse meno in questo stato. Prima aveva ancora degli edifici a demolire, poi sono stati nel tempo demoliti e poi negli ultimi anni questo è un luogo, c'è un sociologo che lo chiamano non luoghi. Questo non è un luogo, ma è un non luogo di quelli senza destinazione, senza anima. Ecco, dobbiamo ridargli quest'anima che questo luogo ha, tenendo conto che è forse il luogo più interessante di tutta Riva. Collaboro con il gruppo Eliopolis Engineering che ha curato in collaborazione con lo studio Cecchetto lo sviluppo del piano di comparto per quanto riguarda le opere di ingegneria e di infrastruttura collegate anche a un concetto di mobilità. Il piano di comparto stesso prevede l'accessione di oltre 2.000 m2 di parco da adibire anche in parte parzialmente attrezzato in cessione al comune, nel rispetto di quelle che sono in tutto e per tutto le previsioni del piano attuativo redatto dal comune stesso e di cui noi oggi cerchiamo di dare attuazione per tramite del piano di comparto. L'intera logica progettuale è proprio quella di creare un collegamento diretto tra il viale Rovereto, in diretto contatto con il cesto storico di cui diventerà sostanzialmente un'integrazione, e la fascia lago. Certo, l'arretramento del comparto edilizio permetterà proprio nella zona da cui stiamo facendo l'intervista di creare una piazza di quasi 1.000 m di superficie che fungerà proprio da zona di interscambio e di collegamento poi per tramite di percorsi nella direzione corso-lago che permetteranno l'attraversamento diretto sia dal punto di vista ciclabile che dal punto di vista pedonale su sezioni dedicate ai due tipi di mobilità. In pieno accordo con la cittadinanza e con il comune cercherà di mettere sul campo anche una visione più ampia di collegamento di quest'area con il resto del tessuto cittadino, aprendo nuove prospettive di mobilità legate anche e soprattutto alla sosta con soluzioni di riqualificazione dell'intero tessuto del centro storico. Allora, noi siamo molto contenti di aver potuto essere gli acquirenti di quest'area ex Catoi perché crediamo molto nella storia e nella potenzialità di Riva. Abbiamo visto quest'area molto degradata che vorremmo rilanciare. Siamo convinti che la popolazione, le cittadine e i cittadini di Riva non possono essere contenti come oggi. Noi al comune abbiamo oggi presentato il piano di comparto che corrisponde a quello che ha previsto il comune o deliberato il comune nel piano di attrazione e così abbiamo messo in grado il comune di approvare il nostro progetto in poche settimane anche se abbiamo alcune idee nuove perché il piano ha più di dieci anni e il mondo nel frattempo è cambiato. Siccome è il piano di attrazione pubblico noi dobbiamo muoverci nell'ambito di quello e abbiamo fatto un progetto che è assolutamente in linea con i desideri e i punti che ha già fissato il comune. Noi abbiamo esperienza in progetti di sviluppo territoriale e di riqualificazione delle aree. Il nostro modo di procedere è coinvolgere la politica e le amministrazioni ma soprattutto la popolazione perché quello che noi costruiamo non lo costruiamo per un consiglio comunale o lo costruiamo per, perché quelli cambiano, ma lo costruiamo per la popolazione che rimane ed ecco loro sono i nostri interlocutori privilegiati.